Io sono la dottoressa Rovere Silvia, sono specializzata in biologia applicata alla scienza della nutrizione umana, quindi mi sono laureata in biologia, tre anni, poi ho seguito la specializzazione appunto sempre di biologia all'Università Statale di Milano, mi sono iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi eseguendo l'esame di Stato e quindi adesso pratico a livello professionale privatamente. La mia visita comporta due fasi principali, la prima è la fase di conoscimento, quindi si entra in contatto col paziente, si fa un'anamnesi generale ovviamente sul suo stato di salute, possibilmente con degli esami clinici a portata, si chiedono le abitudini e soprattutto le preferenze, i gusti della persona per venirne subito in sintonia. In un secondo momento poi ci sarà l'analisi corporea, quindi verrà preso il peso e altre misurazioni più specifiche.